Iniziato il conto alla rovescia per la finale di Fed Cup tra Italia e Russia in programma a Cagliari il 2 e il 3 novembre. Al Tennis Club Cagliari i lavori di montaggio delle strutture agentive proseguono a ritmo incalzante. La Tribuna Est è in fase di ultimazione mentre è iniziata l'installazione di quella Ovest. Solo successivamente saranno montate le altre due rimanenti che stenderanno la capienza del centrale dai mille posti esistenti e i 5.000 richiesti. I biglietti in vendita sono però 4.000. Ci sono i biglietti della Federazione Internazionale, i pacchetti dei biglietti che sono centinaia e centinaia inseriti nei pacchetti degli sponsor, poi ci sono le squadre, poi ci siete voi che avete bisogno anche del posto per assistere alla manifestazione e poi ci sono 100 abbonamenti chiesti e comprati dalla federazione russa, insomma in totale sono quasi un migliaio. Poi ne abbiamo ancora bloccati 120 per la commissione di vigilanza, perché se tutto va bene sblocchiamo anche quelli, venderemo solo ed esclusivamente abbonamenti e contiamo di non aprire i botteghini, nel senso che chi arriverà il giorno alla manifestazione senza biglietto non troverà neanche il posto dove poterlo acquistare. Ne abbiamo venduto circa 3.800 in questo periodo, ne mancano poco più di 200 e mancano ancora 20 giorni, quindi è ragionevole pensare che andiamo verso tutto esaurito. Le prime tre gare del campionato di Serie 1, le squadre del TC Cagliari giocheranno al Fort Village di Pula, sarebbe infatti difficile da gestire il pubblico insieme ad un cantiere così importante.